Buonas, buonas, Domenico Calabro. Per quanto riguarda il tuo video, oggi ci siamo a Massaroma, stiamo nell'aeroporto più vicino di Roma e stiamo parlando dell'entrata, stiamo parlando esattamente della Goldcar, che è un'impresa spagnola che è presente in Italia e è il caso di una persona che intonse teniva un danno, un danno lieve, lo dice la Goldcar, a chi venne sulla macchia Goldcar. Il problema è che nel momento di ingressare al veicolo, in realtà stava la salita, però io intendo che nel momento della salita non lo conteste alla impresa, allora è corretto che la impresa farà questa valutazione. Io credo che la impresa incontra questo danno nel storico del veicolo, quindi è un danno di anteriore, però, dico, bene, mi faccio pagare questa cosa, perché è la mia culpa non contestarlo, però il punto è che, voglio aprire un esempio pratico, chi mi ha un danno, questo è fatto in un parcheggio, ha un danno che mi hanno fatto in un parcheggio, un danno in un veicolo dell'interrente, nel momento della devoluzione del veicolo mi hanno fatto una cuenta di un valore administrativo di 90€, che io credo corretto perché il veicolo è un veicolo che tocca parare, che non va a parare, in questo caso dell'interrente, qui non è, è una impuata, però, ahi, sì, è diverso, è un danno, tocca che ti stanno dicendo che ti cobrano un valore amministrativo di 90€, io credo corretto, e un valore, un valore di, come si dice, di daño di 118€, o meno, una cosa così, questo, credo, è un valore corretto. Quindi, nel momento stesso che ti vanno a fare l'evaluazione del maldano, nel momento stesso della devoluzione del veicolo, attraverso la marmola del caso, ti facciano, nel momento della devoluzione interrente, ti facciano l'evaluazione del daño che tu hai che essere d'accordo, e io credo che questo è scorretto, no? Il problema qui con il carico è che tengono la riserva per tutta la retta del credito, intonso ti stanno dicendo che in questa vanno a fare il carico del daño, però ti dicono che il daño sarà una fisina specifica che valverà questo daño e dispueta la comunicazione. Quindi, in questo io non sono per nulla del credito, perché nel momento che c'è un daño, questo daño deve essere concordato e evaluato con la persona, non può dire a la persona, io tanto tengo la retta del credito, io devo decidere il daño e poi scrivo quanto è il daño, facendo la fatura. Non è, non è, non è, non è, non è modo, non è modo di fare una evaluazione del daño, se il daño sta, una evaluazione del daño e tiene che essere ecia direttamente con la persona, non come e quando a ti te parece e haciendolo tu sin escusare il valor della persona, se la persona lo è tutto sta a evaluare. Grazie sempre per ascoltarci e non vediamo al prossimo video.